Il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione negoziale sulle nuove regole di selezione per i progetti energetici per ricevere i finanziamenti UE, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità delle infrastrutture energetiche che collegano i Paesi membri. Tra i progetti, linee di trasmissione ad alta tensione, gasdotti, impianti di stoccaggio dell'energia o reti intelligenti, che potranno beneficiare di procedure amministrative accelerate e fondi UE. A tenere banco sul fronte energetico è sempre il tema dei rincari, soprattutto per il gas. La commissaria europea all'energia, Kadri Simpson, in audizione al Parlamento UE, ha definito essenziale per l'Europa rafforzare le capacità di risposta alla volatilità dei prezzi. La commissaria ha inoltre annunciato entro fine anno la proposta di una riforma del mercato del gas. Gli eurodeputati del PD chiedono un maggiore coordinamento tra i Paesi per gli acquisti energetici. Oggi è il momento delle scelte precise. Le farà la Commissione europea, che porterà a settimana prossimo un documento. Noi abbiamo dato alcune proposte. Nel cito 4 per titolo, creare delle riserve europee, uno stoccaggio europeo, in modo che in caso di emergenza siamo pronti. Creare un coordinamento degli acquisti, come per i vaccini. Se l'Europa acquista per tutti, è più forte verso i fornitori. Pensate in questo caso con la Russia. Terzo, andare molto sulle rinnovabili anche con un rapporto nuovo con l'Africa, perché l'Africa può essere un fornitore se facciamo delle interconnessioni, se facciamo progetti comuni. Quarto, impedire forse che nell'ETS, cioè nel meccanismo che regola il prezzo delle quote per l'emissione di CO2 in atmosfera, ci siano degli operatori speculativi. Grazie.